Ovunque, ma non nel mio giardino, il proverbio inglese ben si adatta all'Irpinia e ai rifiuti. Ci sono sette comuni che danno disponibilità alla regione per creare impianti per il trattamento dell'umido, soldi dell'Europa e decine di posti di lavoro per il luogo che sarà scelto. Hanno avanzato candidatura a maggio Chianche, Cairano, Petruro, Flumeri, Conza, Montella e Marzano di Nola. Il primo comune limitrofo ad alzare la voce è Santa Andrea di Conza. Il sindaco d'Angola fa sapere al collega primo cittadino Cappiello che dell'impianto non si deve parlare. Anche l'ipotesi Petruro solleva interrogativi nella Valle del Sabato e diversi sindaci si stanno mobilitando per ostacolare il progetto. Non è difficile immaginare che ciò stia avvenendo anche nelle altre realtà di confine. Intanto l'ente provincia dice ni al potenziamento dello stiro a piano d'ardine. Si prova, attraverso un colloquio con il vicepresidente Bonavitacola, a modificare gli accordi e a far sì che la provincia erpina ospiti un solo impianto. Consiglio ai naviganti, alla luce delle passate esperienze, meglio individuare subito soluzioni e portarle avanti, senza aspettare che siano calate dall'alto. No alle polemiche strumentali, per ridurre i costi della bolletta dei rifiuti c'è bisogno anche di luoghi di smaltimento a chilometro zero, senza dover più inviare i rifiuti irpini in Veneto e Lombardia. Tentennare non ha senso, qualcosa dovrà farsi, meglio che siano le comunità a muoversi senza pregiudizi.